ma benvenuti ragazzi io sono dragon's blue e oggi siamo qua su dragon's blue e oggi siamo qua su Jurassic Park su Jurassic Park come si chiama o su Jurassic Park? su Jurassic Park su Jurassic Park è un po' stavo arrivando al T-rex quando poi ho detto vaffanculo non ci voglio giocare più perché mi occupa tanto spazio ma ora che c'è la nuova memory card posso permettermela con Minecraft comunque questa è una nuova serie cercherò di continuare giuro ok andiamo su missioni allora queste due missioni per fare le missioni come vedete questo è il coso del sballo e qua devi poi allargare come vedete qua devi allargare pure lo spazio per i dinosauri poi poi io vi devo farvi vedere poi guarda questa mamma poi diventi questo lo spazio puoi spostare il dinosauro questo è un tricerotipo ma vabbè siamo ancora a livello 2 perché ho fatto poche missioni cioè come vedete ancora il parco è chiuso perché non ha niente nuovo però vabbè andiamo su missioni compra l'habitat per il nuovo dinosauro al mercato posizionando nel parco e premi il tasto accetta raccoglie esperienza allora andiamo sul mercato e qua c'è questo brozzosauro clicchiamoci e dilofosauro mi dilofosauro quello che si dice che buttava vera non è in verità non butta per niente bene allora come vorrei fare vorrei fare tipo da una parte da una parte ci voglio mettere ehm adesso ci metto così faccio così eccola accoglie l'ho fatto ah vabbè seleziona l'uovo e prendi il tasto accelera per far chiudere subito l'uovo per far chiudere subito l'uovo abusi accetta si adesso che mi rindano da qua ma non fai niente fine missione per accelerare la riproduzione di qualsiasi cosa o quasi se sei disposto a pagare ok il nome del dilofosauro significa rettile da due creste per via delle creste parallele sulla sua testa bello do a specie finalmente abbiamo preso finalmente un carnivore ah mi sono bevuto un brinché di coca cola ordine a colture a carne per i dinosauri ai porti i porti rimangono aperti solo per un tempo limitato seleziona il porto carnivore e premio il tasto attiva per l'ordine si i porti si lo so ecco già la prima volta no buongiorno vi vediamo a 2 milioni di dollari il pacco è chiuso ancora se te li porti per la per la coglia della camera si si se te li porti via così siamo a deline allora prego I dinosauri non sono gli unici a invietarsi, sai? Malcolm, pensavo fossi con gli ospiti. C'era, pensavo che qui fosse più sicuro con i dinosauri. Per il tasso strada e tocca al palco per disporre di averci seguiti di strada. Ok, allora per che se il palco è aperto... Attenzione, il palco è di un solito per essere aperto. No, spero, il mio strada si rimuove. E' bellissimo. Ero, che c'era questo? Devo, devo cancellare questo, non mi fa il palco. Un giungi, un giungi, un giungi ancora. Un giungi ancora. Oddio, che c'era. Non è finito. Il palco è aperto. Livello 3, finalmente! Ok, abbiamo preso la torre da vestamento. Posso livellare la cosa della carne. Vi sta per arrivare un altro carnivoro. E posso prendere più, mettere più, ehm, i costi. Vediamo sto palco. Moneta. Monietta. Culture? Devevi la culture stica? Abbandonata. No, quella non posso, non c'è a fare. Perfetto. Ciao, sono Achelli! Sì, ah, quella bambina di Stubbets. Questa non era la mia prima visita a Jurassic Park. E poi senti a riedere della cantina. Espanne il palco. Questo non è l'unico progetto di Jurassic Park. Vorresti incontrare i tuoi colleghi costruttori. Vediamo. Visita il menu home e scopri quali tuoi amici giocano a Jurassic Park. E l'ho visitato! Final missione! Il mondo di Jurassic Park è il più grande di quante immaginabili. Madonna! Wow, che scoperta! Giocheranno più di un milione di persone nel mondo. Ma vabbè. E Jurassic Park. Se gli Jurassic Park sta cercando un nuovo mondo da spiegare per i turisti, se non rompere le palle, lo sto facendo, cioè. Ok, perfetto. E adivina che sei giusto? Volevo... Oh, giusto, vado a fare questo in blu. Forfante. No, che coglione! Ho speso le bangolote! No! E dai, vuole essere che coglione di così, ho speso la bellezza di dieci bangolote. Che coglioni! C'è, dai, come si fa? Come si fa? non è che è bello quando vanno la cosa bella che crescono di nulla alla cavolo ma se si scombrano i 2 mic'nobili bambi e qui dai muove i luni e lui ok oppure io non spezzerei tanti soldi per vincitare solo questi due dinosauri io spezzerei c'è l'intelligente ninja di park con solo due dinosauri potresti spezzerei quindi quando aveva 8 o 7 dinosauri il parco si era aperto ma fino a quel punto affanculo vado devo bere un po di coca non muoge ok vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto questo è il mio video spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e ciao ciao ancora un bravo minuto aspettate cosa fanno un bravo minuto eeeh stavate decidere a prendere il parco è bruciato già la zona scusate c'è dai su 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 tutto dai andiamo a puttane e e abbiamo a 10 mila a 10 mila a 10 mila euro dollari ok vabbè mochi c'è 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 comunque spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale ciao ciao doc da 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 Grazie.